Il servizio di prenotazione per le prestazioni sanitarie partirà a breve a San Cataldo, successivamente nel capoluogo. Allora, come voi sapete ormai abbiamo lavorato tanto per questo servizio che io penso sia importante per tutta la cittadinanza della provincia di Caltanissetta. Siamo arrivati ormai alla parte finale, quando adesso dovremo cominciare. Abbiamo deciso, assieme all'Asp, di non cominciare tutti perché chiaramente potevano esserci dei problemi di collegamenti, problemi di connessione, problemi che potevano sorgere. E quindi si parte in via sperimentale su San Cataldo, credo la prossima settimana, insomma brevissimo. Se non ci saranno problemi, come io penso non ci saranno problemi perché tutti abbiamo ormai sistemato dal punto di vista software, hardware e anche della preparazione nostra e degli operatori, a seguire, seguiranno tutte le altre città della provincia. Quindi il servizio sarà per tutta la provincia. C'è una novità, la mattina e il sabato tutte le farmacie aperte. Come vi avevo preannunziato, viste le proteste, viste che il mondo cambia, visto tante cose che avvengono, abbiamo fatto una profonda riflessione al nostro interno e alla fine si è arrivati alla determina che il sabato si apre. Ma il sabato si apre tutta la giornata, non solo la mattina. Qualche farmacia, dato che l'orario è libero, decide di aprire solamente la mattina. Altre apriranno invece tutta la giornata, con certo un aggravio di costi, un aggravio di tempo, di lavoro, però in ogni caso non si poteva far finta di niente per il grido d'allarme di tutta la cittadinanza della provincia.